La fase di... Devo informare i Woofinga che egli è tra loro e vive nelle tracce dei Nephilim, i giganti guerrieri che combatterono per il Signore nei tempi antichi. Hanno tramandato la loro presenza perché la sua luce giungesse fino a noi, la luce degli angeli che si stende su tutta la terra. Sento la sua potenza, mi chiama mio prediletto e mi rasserena. Ad egli io rispondo con la preghiera, la fede e diventando una sua voce. La fede e diventando una sua voce. C'è una strana energia qui. La fede e diventando una sua voce. La fede e diventando una sua voce. La fede e diventando una sua voce.